Siamo primi, 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 oh, siamo primi, oh, sì, sì, ma che ti devo dire cogliendo? S-Primi su iTunes, eh? Perché che mi sento? Come te senti? Oh, come te senti? Come te senti S-Primi? Oh no? Ma come mi senti? Come mi senti? Come te senti? Rilasciaci subito Nino. Come ci si sente essere primi su iTunes? Eh? Come ci si sente essere primi su iTunes? Oh, come ci si sente? Eh? Ma che discorso è? Secondo me, cambierei per quello dei capelli? Beh? Grazie ragazzi, ringrazia! Oh, non amare, ringrazia! Grazie! Eccolo! Eccolo! Andiamo sopra la vetta! Ah! Ah! Mannaggia! No! Sei primo, devi stare in alto, no, devi stare in alto, siamo primi! Volevo ringraziare tutti i ragazzi con il cuore, a parte i scherzi, anzi, a parte i scherzi bisogna fare una cosa ora, sapete che sono di parola e manterrò la mia promessa, quindi state collegati oggi! Abbiamo anche la fidanzata di Tony F. Eccola! Chiara C. Eh? Ma che outfit! Mamma mia! Eh? Chiara Pink! Bibi! Eh? Marzupietto, sì! Oh no! Oh! Eccolo! Ma come ci si sente essere primi? Ma che, che ne so io come si sente? Come ci si sente? Eh? E' come ieri! Sta pieno? Sta pieno? Come sta? Adesso cantiamo! Curre, curre, sta pieno, sta pieno! Come? Curre, curre! Come? Ah! Come sta cazzo! No! È rovina tutta la canzone che sta al primo più opposto! Eh? Eh? No! Pennello là! Levate! C'ho da fare io! Vedi c'ho da fare? Ma dove andrà? Ho da fare la pasta! Io dove andrà? Affanculo! Do? Affanculo! Do? Non è fa urlare! E da già affanculo! Oh! Io farei una sistemazione di questo! Fermo, tu non ne fai niente! Guarda che ti viene da rire! Io la fai una sistemazione! Io devo fare una sistemazione! L'ho promesso! Tu non ne fai niente da sto fermo! Te la levati i coglioni! Ho fatto un sottato ieri! Ieri sera! Vai! E poi cosa fa? E dopo va a fare un'altra volta! No! Ma perché o no? Andi via sempre così scortese! È una domenica! Ah! Ma lascia! Tutti i capelli che volano colorare tutti i capelli! Beh! Ma l'amor della madonna! Ah io! Non ne fai niente! Niente da qui! Basta! Basta! Va a dormire! Dov'è andata? Ah! Un'altra volta! Non mi tocca una pocina! Ah! Ma te! Ah! Ma io sono contento! Ma io che peccato da scontare per sta contenta! Rivolgiti a San Giovanni! Sì chi è Giovanni! San Giovanni! Sì chi è? E' quello che è secondo! Tu ti rivolgiti a San Giovanni! Rivolgiti a San Giovanni! San Giovanni è uno ma di qui sta pieno ragazzi! Voglio a tu i santi! Calma! L'hai lavato qua! Bella diretta ragazzi! Sta pieno dei santi qua! Qua sta no? Beh! Ma non mi la fai! Ma vattene! Ma non si vede che vennerà con te gli uomini qui non la vado adesso! Come la fa? Come la fai? Vediamo se può canestro! Portamelo via! Non si può avere una bella macchina! Un bello orologio! Ma le cose più importanti della vita non sono quelle! Le cose più importanti ragazzi sono onorare e rispettare il prossimo! Soprattutto la mia figlia! Eccola! L'amore mio! E so venuto da te! Si può essere primi dappertutto ma prima ci sei tu! Quindi ricordatevi più di queste storie che delle altre! Perché è questo che voglio tra l'altro dopo che c'entra! La gente ha bisogno di leggerezza e spensieratezza! Però anche questo è molto importante! Anzi è importantissimo quello che ogni giorno provo a trasmettere in tutto quello che faccio e dico! Tutto il c***o che c'è dentro il mio profilo è fatto da persone spettacolari! Da persone che veramente personaggi! Chi più chi meno! Però questi sono i veri valori ragazzi! Scusate se ho un po' emozionato! Mi trema la lingua veramente! Mi senta aver toccato la prima posizione! Bene! Bene! Tanto bene! Come? Questa è la seconda giovinezza! Oh! Bravo! Dammi un bacio! Oh! Quindi in sé è vecchio! Vecchio! Ma che sei matto? Allora andiamo! Andiamo a pelo! Perché sta pieno! Vai! Curre! 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 Andiamo a pelo! Perché sta pieno! Le tagliatelle! Nonna Marie! Nonna Marie! Guarda di qui! Le batte nessuno! Eh! Queste le batte nessuno! Altro caitunze eh! Tatan! Guardate quanto so belle raga! Poi non vi spoilerò il sugo va! La pasta ripastata con doppia pasta! Ripasta ritagliatellata! Suga pisellata! Che dieta è? È la dieta che mi fai cazzo mia! Ne hai capito allora! La dieta è impossibile! Il piano distratto sta nevicando! Incredibile! Riaprono tutte le piste! A maggio inoltrato! Quasi giugno! Guardate com'ha coperto! Si riapre! Canazzei! Ortisei! Madonna di Campiglio! Per passare per Limone Piemonte! Guardate com'ha nevicato! Ma quanto ha nevicato no là! Fermete! Guarda quanta nevicato! Ma quanto ha nevicato no là! Comunque sempre 50 grammi di pasta ragazzi! È importante 50 grammi di pasta! Perché se no veramente eh! 50 grammi! Sugi che preferisco! Piselli e prosciutto ragazzi! È favoloso! È boh! Mamma mia! Questo è un'emozione! Non è un pranzo! È un'emozione! Chi è Onolu? È un piede della mignota! Ma perché? È perché è un piede della mignota! Ma perché? È perché è un piede della mignota! Onolu! Onolu! Non è parlo! Oppure semplice! Oh! Non ci stanno nel Quartanaro! Giustamente la tattica giusta è quella che parlavamo ieri! Scusi! Ma è possibile che tu adattate un'emozione! Ho avuto paura! Ma non c'è altro! Codrilli eccoci qua! Ecco Nonna Maria! Guardate quanto è bella! Stiamo per partire! Ma vi volevo spoilerare una mezza cosa! Continuate ad acquistare il brano! Perché potrete partecipare a un contest! E venire a pranzo da Nonna Maria! È vero! Sì sì! Vi do questa opportunità! Quindi fate swipe! Dopo vi spiegherò tutto! Come fare! Come non fare! Vero? In un video più tardi! Perché poi più tardi ci sarà anche un'altra sorpresa! Perché logicamente! Ho fatto una promessa! E una promessa manterrò! Quindi fate! Swipe! Continuate ad acquistare il brano! Perché potrete pranzare! Proprio qua! È vero? Tu sei pronta? A fare le tagliatelle? Sì sì! Allora fate swipe! Siamo sopra la diga di Valfabbrica e si sta riempendo l'invaso e sta pieno di figa! Sta strappieno! Viene s... Una donna mia! San Francesco! Nessi di Santa Chiara! San Rufi! San Antonio Box! Miu veste matto! È matto! Buongiorno coccodrilli! Ci siamo ci siamo! No! Vabbè! Sta pieno! Ci siamo quasi no eh! Secondo me stasera hanno votato così! Hai capito? Ma qui! È! Che stai fa? Non fa un culo! Eh? Che stai fa? Bisce! Va via! Stai a me mi distrindo! Stai a me perché? Va via! Stavo... Stai a me che stai dicendo! No! Vabbè! Domani metterò il video ragazzi! Com'è ma? Stasera è meglio che non ti fai vedere più a casa! Perché? Perché è meglio che torni domani! Ma no! Perché? Fatti ospitare! Ma perché? Perché quello è un diavolo! Ma ne è un diavolo! Eccomi qua! Finale di serata un po' movimentato! Però ci siamo! Vi volevo comunicare che acquistando la canzone su iTunes facendo swipe up e mandando la ricevuta, cioè la foto, lo screen dell'acquisto potete essere estratti per venire a pranzo a casa mia! Quindi, cosa dovete fare? Fate swipe! Mandate la mail e sorteggeremo due persone che verranno ospiti a casa mia a pranzo, chiaramente con le tagliatelle della nonna, lo show mio e mio nonno, cioè sarà un bellissimo modo per festeggiare la canzone in questo momento! Quindi fate swipe up, continuate ad acquistare la canzone perché potete partecipare tutti! Swipe! Grazie ancora veramente con il cuore! Anche oggi ho ricevuto tantissimi bei messaggi, soprattutto per l'uscita fuori porta, fuori porta qua vicino con i nonni! Martedì ci sarà una sorpresa per i nonni perché se lo meritano veramente e anche voi vi meritate di vedere questo! Di magari ricordare le vostre vicende con i vostri nonni, le persone care! E questo lo sento, questo lo vedo e vi ringrazio! Ringrazio anche tutti i miei amici influencer che ieri mi hanno dato una mano! Non è per nulla scontato ragazzi, credetemi che in questo mondo io ci sono entrato da poco, veramente non è facile! Però quando ci sono delle persone vere, delle persone con cui condividi le cose è bello! Gli altri purtroppo che vogliano fare! Il mondo è bello perché è valido! Però va bene così! Per tutti quelli che mi hanno sostenuto, per chi non l'ha fatto, grazie uguale, anzi grazie al cazzo! Comunque, niente! Adesso vado a dormire e domani chissà come ci sveglieremo! Con l'occhio pecoro! Sarà pieno fuori! Ah! E poi, non pensate che io per la canzone non ho fatto il video! Perché c'è un video bomba! Cazzo mi frega, lo dico, esce venerdì! Perché se no mi dico, non ne spoilerà subito! Raga, esce venerdì! Preparate! Intanto domani su YouTube uscirà quello della colorazione dei capelli! Quindi, c'è sempre ciccia di qui raga! Sempre ciccia al fuoco! Buonanotte! Sì!